Presso il Circo della Stampa di Avellino si è tenuta la presentazione dell'ente Parco Regionale dei Monti Picentini che in collaborazione con l'ASD, la Ceno Bike, comune di Bagnoli Irpino, Bike Team Linea Bici ha raccontato i due prossimi eventi sportivi, il Meeting Regionale Giovanile Campania 2022 e il quinto trofeo MTB Altopiano della Ceno, la Gran Fondo del Parco Regionale dei Monti Picentini e la sesta tappa del Giro della Campania Offroad 2022 per la soddisfazione del Presidente dell'ente Parco Regionale dei Monti Picentini, Fabio Guerriero Io ci tenevo tantissimo che quest'opera avesse un seguito, una possibilità di gestione per questo abbiamo dato un contributo e continuiamo a darlo lo stiamo facendo con il patrocinio ma anche con un po' di sostegno e anche con un po' di attività che il Parco sta mettendo in campo su temi diversi noi stiamo lavorando a una nuova consapevolezza essere cittadini dell'area protetta dei Monti Picentini deve essere un'opportunità un'occasione di orgoglio perché si protegge la natura in questi luoghi ma deve essere anche un'opportunità la sfida è questa, coniugare tutela e salvaguardia con promozione e valorizzazione di questi luoghi straordinari e credo che il cicloturismo, la valorizzazione dei percorsi e dei cammini alla quale stiamo lavorando con grande attenzione siano la possibilità per questi territori e sicuramente Bagnoli in questo momento rappresentato dalla nuova amministrazione stasera avremo il nuovo assessore al turismo è uno di quegli enti a cui diamo una mano per lavorare a questa nuova consapevolezza Lo specifico sono due gli eventi che si presentano oggi? In effetti l'evento si articola in due giorni un primo giorno dedicato ai bambini vi testimonio una grandissima partecipazione con grandissima emozione da parte di questi ragazzini l'anno scorso in piena pandemia ne abbiamo avuti 120 quest'anno speriamo di averne di più anche perché c'è un doppio evento legato ai bambini uno legato a un'attività fuoristrada ed uno invece di tipo stradale il giorno dopo invece ci sarà la Gran Fondo Parco Regionale Monti Picentini che è una gara di 45 km con 1500 metri di dislivello che si articola su questo percorso realizzato negli anni passati dal Parco dei Picentini